Diceva Simone de Beauvoir, non dimenticate mai che sarà sufficiente una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne siano rimessi in discussione. Questi diritti non sono mai acquisiti. Dovrete rimanere vigili per tutta la vita. Questa citazione si adatta molto bene alla crisi che stiamo attraversando. Signore e signori, la pandemia di Covid-19 non soltanto ha consolidato le ingiustizie e le disuguaglianze già presenti nelle nostre società, ma rischia di cancellare decenni di conquiste delle battaglie delle donne europee sul diritto al lavoro, alla condivisione del lavoro di cura, all'autonomia nelle relazioni, al rispetto e al diritto delle proprie scelte nelle relazioni affettive. Il Covid e la sua crisi rischiano di mettere in discussione tutto questo. Le Organizzazioni per i diritti delle donne, i difensori dei diritti umani, le ONG, la società civile, il mondo accademico, ci dicono che le misure adottate dai governi per contenere la diffusione del virus hanno molto spesso acuito il divario di genere in termini di disoccupazione, peso del lavoro domestico, sicurezza finanziaria e autonomia personale delle donne. In tutti i nostri Paesi le donne sono state le prime a perdere il lavoro o a finire in cassa integrazione. Durante il confinamento un numero ancora più alto di donne ha subito violenze, violenze da parte del partner, degli uomini, all'interno della dimensione familiare, domestica. Signore e signori, possiamo combattere questa pandemia e contro l'impatto sociale e economico che ha e avrà sulla vita delle persone soltanto se noi metteremo le donne, le ragazze, le bambine al centro della nostra risposta.